Sulla via del successo c'è chi arriva lavorando, chi recitando, chi scrivendo libri e poi c'è anche chi arriva cantando. E come per l'attore il ricordo dei suoi successi è legato a certe commedie, per lo scrittore a certi libri, per il cantante il ricordo della sua carriera è legato a quelle canzoni che gli hanno dato maggiore successo. E poiché al pubblico piace sempre riascoltare le belle canzoni di ieri e di oggi, noi abbiamo invitato Tina De Mola a rievocare per voi alcuni dei suoi innumerevoli successi, l'ho detto scusate.